Tre arresti per l'omicidio di Nicola Lorusso, padre del capo clan del quartiere San Girolamo, avvenuto a Bari l'11 gennaio del 2015. La polizia di Bari e Bologna ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei presunti killer. Leonardo Campanale, di 46 anni, Gianfranco Caputi, 28enne, e Cosimo Campo, di 27 anni, elementi di vertice del clan Campanale. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Nicola Lorusso, 59 anni, venne trucidato in un agguato avvenuto in una strada del quartiere alle 9.30 di mattina. Fu colpito a morte da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi con un mitragliatore, mentre era alla guida di un'auto in compagnia della moglie. Sul posto vennero repertati 25 bossoli calibro 7,62, esplosi con un Kalashnikov AK-47. La vittima era padre di Umberto Lorusso, 38enne, attualmente in carcere, a capo dell'omonimo clan mafioso, vicino ai capriati da alcuni anni in contrasto con i Campanale, propagine del clan Strisciuglio, entrambi attivi nel quartiere San Girolamo, nella gestione delle attività illecite. I tre arrestati sono stati condotti nel carcere di Bari a disposizione dell'autorità giudiziaria.